bentornati amici oggi siamo su stocca no scusate ho sbagliato siamo su leos red carpet rampage ragazzi un gioco flash veramente fuori di testa vi lascio anche il link nell'info box del video oltre a tutti i nostri contatti i miei ed i giorni bass tra l'altro non so se lo sapevate ma da poco da pochissimo tempo siamo anche noi su ps4 quindi abbiamo il le piattaforme complete praticamente siamo dappertutto quindi aggiungete vi trovate sempre i gamertag e gli id nell'info box bene sapete tutti quanto leonardo di caprio abbia la maledizione dell'osca vediamo che cosa hanno deciso di fare e questi sviluppatori veramente roba pazzesca ragazzi allacciatevi le cinturi here we go allora click to play hi i'm leonardo dicaprio and i really need to win the oscar let's do this ho proprio bisogno di vincere l'osca ok con g e h sulla tastiera to run ovvero percorrere e raggiungere la statuetta sul red carpet bene utile di partire sarà un'ammazzata da che lo prendo da che lo prendo con la barra spaziatrice riesco a saltare ricordatevelo eh c'è tre comandi ma so raga non si raggiunge raga non si raggiunge bonus oddio devo raggiungere la lambo la lambo la lambo oh un le mie dita oh ma chi è lì da parte oh ciao ciao ragazzi un crampo un crampo via del crampo c'è una graziosa excellent act harder ok ok get ready la volta lo prendo oddio il cameraman se gli salto sopra mi dà la spinta da quello prendo impossibile nooo l'iceberg del titanic ah ragazzi non ce la faccio giuro non ce la faccia muovere le dita ah ah devo dare io la nomination fallito ah ma c'ero io o non ho nascosto? cioè c'era Leonardo DiCaprio? ah con The Martian Lady Gaga is coming through oddio è Lady, è Lady Gaga gragniocca tra l'altro oh ci fa la carica guardala nooo nooo ho spinto nooo what the? what the? what the? what the? Brian Cranston che cazzo è Brian Cranston oh no vabbè avevo spinto di tutto e me guardate Lady Gaga come carica ah non sento più le dita non sento più le dita no se lo via Lady o l'Oscar and the Oscar goes to non Leonardo DiCaprio che cazzo devo scrivere? Leonardo DiCaprio qua per aiuto qua tutto Vai ale accendere questo dai leo! dai leo! dai 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 dai! aspetta se esco dallo schermo è finita! wow! una serie di combo incredibili! ranchino umano di caprio! find the black nominae! dove sto? no! non lo piglio mai eh! mai! ma chi sono questi? sono tutti! steve jobs! the martian! the mad demon! lady gaga! no pure lady gaga! mamma mia! cominci a odiare lady gaga! ma poi è indistruttibile eh lady gaga! salti addosso! non... tanto sto perdendo l'uso delle... delle braccine! spezza le braccine sto gioco eh! ancora! vai! scriviamo a caso! eeeh! ah ok! ho capito come funziona questa cosa! devo riempire tutte le righe ma... oh! siamo a round 7! comparso l'oscar! quindi? me lo piglierò mai! e anche adesso me lo farà prendere! ah! ci cecchina! senti qui! oddio non ho letto ragazzi! cioè l'iceberg del titanic è geniale! è geniale! ma quanti bei giochi che sto facendo in questo ultimo periodo! eh? ancora? scrivi tutto! scrivi tutto! scrivi tutto! scrivi tutto! scrivi tutto! scrivi tutto! una volta! non mi è venuto mai questo! mai! e non me verrà mai! che perché non c'è tempo! oddio! ci sarà lady gaga! io presumo! presumo ci sarà ancora lady gaga! intanto non so se avete sentito l'inno statunitense cantato da lady gaga! mi lo straconsiglio! quasi quasi ve lo metto anche quello nell'info box! oddio! ma tanto di un oscar! non era meglio il super tele gattone! allora ho vinto 11 golden globes! 61 Emmy! 7 MTV VW Awards! 19 BAFTAs! oddio! che è BAFTAs! ah! è giovanotti quando si stufa le fa qualcosa e dice BAFTAs! BAFTA! BAFTA! SAG Awards! oscars 0! eh qua! cioè che ci aspettavamo! Leonardo Di Garbo che vince l'oscar! è impossibile! pressa Enikitu continuo! play again! e qui c'è il mio score! bene! io ho fatto 8632! bene! questo gioco lo trovate nel link nell'info box! perché non provarlo! se volete così allenarvi a fare i muscoli delle falangi! se volete così allenarvi a fare i muscoli delle falangi! è ottimo! quindi Frenky Romano vi saluta senza giorni basso! tra poche ore ci vedremo e faremo un video molto speciale! e mi raccomando a 0 like uscirà il prossimo video! ciao!